Ciao e bentornato, proseguiamo il nostro viaggio attraverso la composizione lasciandoci esattamente dal punto in cui ci eravamo lasciati. Avevamo parlato di punti di fuga e quindi della possibilità di creare profondità all'interno dei nostri scatti e quindi vediamo qualche altro piccolo trucchetto per appunto aumentare il senso di profondità e quindi creare una terza dimensione in un'immagine che sennò sarebbe bidimensionale. Per farlo ovviamente utilizziamo le fotografie dei grandi artisti sia del passato e sia contemporanei. Questi trucchetti altro non sono che le regole della prospettiva, quindi regole che esistono da centinaia a centinaia di anni che sono state usate dai artisti in molti campi, dalla pittura, dalla scultura, per ampliare il senso di profondità, la terza dimensione nelle proprie opere. La prima regola della prospettiva ci dice che gli oggetti più piccoli appaiono più lontani, quindi una cosa del tutto ovvia che comunque può essere usata all'interno della fotografia per dare appunto il senso di profondità dei nostri scatti. Per esempio in questa fotografia di Salgado il senso di profondità, oltre ad essere una fotografia di paesaggio quindi con diversi elementi sui diversi piani focali e quindi avere già una grande profondità di campo, è aumentata anche dalla presenza di questi uccelli sul primo piano e altri uccelli che volano ovviamente di dimensioni minori e anche questi due qui dietro di dimensioni minori che aumentano appunto la profondità di campo. E ugualmente nella seconda fotografia che è sempre dello stesso artista la profondità di campo è aumentata grazie alla presenza di quell'individuo di spalle e anche in questa terza fotografia di Salgado la profondità di campo è data appunto da questo individuo sul primo piano imponente e poi gli altri più piccoli sul secondo il terzo piano e via dicendo. Quindi noi possiamo disporre i nostri elementi all'interno della composizione per cercare di dare una profondità di campo, una cosa che ovviamente viene fatta facilmente nella fotografia still life come per esempio in questo scatto dove vedi che la profondità di campo è data essenzialmente dagli elementi sul primo e sul secondo piano, dal bicchiere in primo piano con lo sfocato che è un po' più grande del secondo per esempio e questo aumenta la profondità di campo di un'immagine che sennò sarebbe assolutamente piatta. Questa fotografia ci porta comunque alla seconda regola della prospettiva che ci dice che gli oggetti che si sovrappongono ad altri appaiono più vicini quindi questo vuol dire che noi possiamo mettere più soggetti sovrapposti all'interno di un'immagine ovviamente con criteri e non è che dobbiamo mettere migliore oggetti per creare profondità di campo ma appunto più oggetti sovrapposti creano e aumentano il senso di terza dimensione all'interno di un'immagine anche questa regola come tutte le regole della prospettiva sono facilmente applicabili nel campo still life e vedi queste due fotografie soprattutto la seconda è un emblema di questa regola perché sennò sarebbe una fotografia assolutamente piatta una mela su uno sfondo giallo ma questa sovrapposizione di triangoli geniali aumenta la profondità di campo dell'immagine e la rende molto più accattivante oltre a usare anche l'elemento triangolare che ha la forma e quindi rende il dinamismo anche in questa fotografia sempre di Salgado la profondità di campo è data essenzialmente dal ripetersi delle montagne ma anche degli individui ed è anche un'applicazione della prima legge dove ci diceva che praticamente gli individui diventano sempre più piccoli quindi abbiamo proprio un aumento della profondità di campo grazie a queste due leggi e anche in questo scatto finale puoi vedere la profondità di campo data essenzialmente dal ripetersi delle colonne ovviamente devi tenere conto quando vuoi usare questa legge di quale lente stai usando perché il grandangolare come abbiamo visto nella lezione dedicata tende ad ampliare la distanza tra i piani prospettici mentre il teleobiettivo tende a schiacciare i piani prospettici quindi se vuoi usare questa legge nei tuoi scatti forse un grandangolare rende meglio sicuramente con teleobiettivo perché aumenta appunto già di suo la profondità di campo di un'immagine la terza e la quarta legge della prospettiva l'abbiamo già vista perché è riferita comunque al punto di fuga la terza regola gli oggetti visti attraverso appare più brevi quindi abbiamo comunque il discorso relativo dei punti di fuga ho messo queste immagini apposta e la quarta regola invece è riferita a un unico punto di fuga quindi le linee parallele che si allontano convergono verso un punto dove poi andrebbe messo il nostro elemento il soggetto diciamo il punto forte della nostra composizione come per esempio in questo scatto quindi non soffermo su queste due regole sia quella la terza e la quarta perché comunque si riferiscono alla prospettiva a due punti a un punto che abbiamo analizzato nella lezione precedente la quinta regola della prospettiva ci dice che gli oggetti più lontani sono meno luminosi meno definiti e colorati quindi vedi che sono leggi abbastanza ovvie che comunque sono già sai ma che adesso che senti le puoi interiorizzare e applicare poi nei tuoi scatti perché questa quinta regola della prospettiva si verifica sempre nella fotografia del paesaggio dove ovviamente il primo piano è molto più vivido più saturo e soprattutto più definito del secondo piano come puoi vedere anche in queste immagini ma puoi applicare questa regola mettendo di proposito magari degli oggetti ancora più saturi e vividi sul primo piano in modo tale che risaltino ancora di più perché sai già che il secondo piano sarà un po' ricco di colori meno vivace come per esempio in questi scatti dove risalta per esempio questa fotografia in maniera emblematica il rosso e in questa gli altri colori che comunque sono sia sul primo piano e sono già di per sé colori vivaci e quindi risaltano maggiormente per finire il discorso legato alla profondità di campo c'è da dire anche che dipende dall'inclinazione della fotocamera per esempio quindi dalla prospettiva che hai del tuo soggetto per esempio se fotografi dall'alto e tieni la fotocamera inclinata con bassa inclinazione quindi 45 60 gradi hai una buona profondità di campo quindi spesso viene usata per esempio nella fotografia di paesaggio in quadri dall'alto con la fotocamera leggermente inclinata e hai una buona profondità di campo mentre se tieni la macchina inclinata maggiormente quindi a 90 gradi hai un appiattimento completo dei piani prospettici e quindi questo spesso viene usato nella fotografia di prodotto nella food photography per dare proprio il massimo dell'attenzione al soggetto principale del tuo scatto al piatto per esempio o alla scarpa o quello che è perché comunque in questo modo non avendo la terza dimensione la tensione è completamente focalizzata sull'oggetto puoi vedere quello che abbiamo detto per esempio in queste fotografie stesso artista e stessa più o meno diciamo un paesaggio qua inclinazione di 45 60 gradi quindi bassa inclinazione abbiamo una grande profondità di campo con questo ripeto di sedere dune mentre qua inclinazione maggiore e vedi che la profondità di campo si riduce notevolmente quindi due fotografie completamente diverse qua puoi vedere altri esempi di fotografie con inclinazione ridotta quindi che per esempio abbiamo usato una fotografia di paesaggio quindi come aumenta la profondità di campo qua è aumentata anche dall'unico punto di fuga mi piace molto questa fotografia mentre nella fotografia di prodotto come ti dicevo inclinazione massima fotografia dall'alto e quindi si riduce notevolmente la profondità di campo praticamente a zero e la tensione è tutta sul prodotto bene dopo aver parlato della profondità di campo visto che abbiamo parlato della ripetizione dei soggetti affrontiamo un'altra variabile molto importante per la comunicazione dei nostri scatti ed è il ritmo il ritmo è una variabile che è da sempre associata alla musica ma è molto presente anche nella fotografia e può essere utilizzato appunto per migliorare la nostra comunicazione e il nostro linguaggio cos'è essenzialmente il ritmo la ripetizione di alcuni elementi in musica la ripetizione delle note mentre in fotografia è la ripetizione dei soggetti e quindi abbiamo diversi elementi che possono essere rappresentati e in queste fotografie ne abbiamo diversi esempi quindi il ritmo è dato per esempio dal ripetersi delle radici dal ripetersi degli alberi o delle colonne come abbiamo visto prima nel ritratto di Greta o da ripetersi delle dune come abbiamo visto prima nelle fotografie relative all'inclinazione del soggetto possiamo distinguere essenzialmente tre tipi di ritmo il ritmo regolare come avviene per esempio in queste fotografie dove è chiaro per esempio in questa fotografia la regolarità del ritmo o anche in questa dove quindi abbiamo una ripetizione armoniosa che regala un senso praticamente di equilibrio allo spettatore e lo tranquillizzano oppure possiamo avere poi delle ripetizioni invece esattamente le contrarie dove quindi gli elementi sono messi apparentemente in maniera molto casuale ma sono messi a punto in quel modo per suscitare sensazioni diverse agli occhi dell'osservatore come per esempio in queste fotografie dove puoi chiaramente percepire un senso di disagio maggiore rispetto a quelle armoniose di prima oppure possiamo avere la ripetizione detta a punto diverso dove praticamente abbiamo come in queste fotografie un insieme di soggetti quindi in questa fotografia abbiamo un insieme di donne tutte girate di spalle e un'unica donna che guarda verso la fotocamera e ovviamente la nostra attenzione cade tutto su quella donna oltre che l'unica che guarda in camera è l'unica che è girata quindi è diversa dal resto della scena come in questa fotografia l'insieme di gambe e bam la bambina lì in mezzo il punto diverso è una tecnica molto forte che si serve per valorizzare un soggetto all'interno della scena e tutti questi scatti ne sono un esempio vedi c'è una stretta correazione comunque tra il gruppo sono tutte persone per esempio in questo caso è l'elemento diverso oppure in questo caso abbiamo questa ripetizione diciamo degli archi e bam il punto diverso anche di colori diverso quindi abbiamo chiaro lo scuro insieme quindi vedi come tutti i fattori che abbiamo realizzato in tutte queste lezioni vanno poi a convogliare nell'unico messaggio quindi qua il soggetto è valorizzato sia dal colore dalla luminosità e sia da questa ripetizione guarda anche come risalta la telecamera in questo gruppo di linee questa composizione al limite diciamo tra la posizione a punto singolo a punto diverso o a quelle squilibrate quindi quelle disarmoniche ma diciamo che esaltano molto di più quei piatti rettangolari rispetto ai piatti rotondi è anche un'ottima fotografia per rinvoltare un altro elemento sempre legato al ritmo che sono i motivi spesso questa legge qua del punto diverso viene associato ai motivi quando ci sono tanti elementi presenti in scena tanti da non riuscire praticamente a identificare quanti sono si parla più che di ritmo praticamente di motivo ed è evidente per esempio in questa fotografia dove spicca ovviamente l'orologio che è di forma simile a tutti gli altri ma non riusciamo a contare quanti tondini ci sono di strofa o di carta quindi quello è praticamente un motivo che serve praticamente come cosa ornamentale circonda il soggetto principale dello scatto una cosa che avviene molto spesso nella fotografia still live come ad esempio questa scarpa o anche di nuovo in questo orologio qui quindi anche questa variabile del ritmo dei motivi per usarla per arricchire il tuo linguaggio fotografico secondo me soprattutto molto forte quella a punto diverso per valorizzare veramente il soggetto principale del tuo scatto una regola che viene spesso usata in fotografia naturalistica o appunto nella fotografia di strada dove abbiamo dei gruppi di soggetti quindi le persone e gli animali molto simili da poter correlare tra loro oppure nella fotografia still life dove hai libertà di composizione e quindi puoi fare quello praticamente quello che vuoi quando i soggetti aumentano ancora di più rispetto ai motivi e diventano praticamente indistinguibili l'uno dall'altro stiamo parlando di texture una variabile strettamente collegata con la materia che sono un classico esempio per esempio le rughe di una persona quindi la texture una variabile che è strettamente correlata con il tatto devi quando si parla quando vuoi fotografare diciamo parlando di texture devi dare proprio l'impressione di come sia quel soggetto a toccarlo come per esempio in queste fotografie che dirai che rendono molto la sensazione che si avrebbe a toccare quel soggetto come puoi vedere queste fotografie sono spesso in bianco e nero perché per far esaltare la texture si gioca molto sul gioco di luce e ombre generalmente per far esaltare una texture irregolare e spigolosa come per esempio questa fotografia qua la luce migliore è quella che arriva inclinata rispetto al soggetto in modo tale incredibile forti ombre presenti in scena che aumentino appunto questo senso di ruvidezza che vorresti dare bene anche con questo concetto relativo alla texture abbiamo finito questa lezione nella composizione abbiamo detto un po di cose parlato di varie variabili ma non è ancora finita qua nella prossima lezione affronteremo una delle variabili più importanti probabilmente nella fotografia digitale che sono i colori ci vediamo nella prossima lezione